Dal libro del Siracite Nel tempo della prova Stai unito a Lui, senza separartene Perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni Accetta quanto ti capita E sii paziente nelle vicende dolorose Perché l'oro si prova con il fuoco E gli uomini bene accetti Nel crogiolo del dolore Affidati a Lui Ed Egli ti aiuterà Raddrizza le tue vie E spera in Lui Persisti nel suo timore E invecchia in esso Voi che temete il Signore Aspettate la sua misericordia E non deviate Per non cadere Voi che temete il Signore Confidate in Lui E la vostra ricompensa non verrà meno Voi che temete il Signore Sperate nei Suoi benefici Nella felicità eterna E nella misericordia Voi che temete il Signore Amatelo E i vostri cuori Saranno ricolmi di luce Considerate le generazioni passate E riflettete Chi ha confidato nel Signore Ed è rimasto deluso O chi ha perseverato nel suo timore E fu abbandonato O chi lo ha invocato E da Lui è stato trascurato Perché il Signore è clemente e misericordioso Perdona i peccati E salva il momento della tribolazione Protegge coloro che lo ricercano sinceramente Affida al Signore la tua via Confida nel Signore E fai il bene Abiterai la terra E vi pascolerai con sicurezza Cerca la gioia nel Signore Esaudirai i desideri del tuo cuore Affida al Signore la tua via Il Signore conosce i giorni degli uomini integri La loro eredità durerà per sempre Non si vergogneranno nel tempo della sventura E nei giorni di carestia Saranno saziati Affida al Signore la tua via Sta lontano dal male E fai il bene E avrai sempre una casa Perché il Signore ama il diritto E non abbandona i suoi fedeli Affida al Signore la tua via La salvezza dei giusti viene dal Signore Nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza Il Signore li aiuta e li libera Li libera dai malvagi E li salva Perché in Lui si sono rifugiati Affida al Signore la tua via Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù e i Suoi discepoli Attraversavano la Galilea Ma Egli non voleva che alcuno lo sapesse Insegnava infatti ai Suoi discepoli E diceva loro Il figlio dell'uomo Viene consegnato nelle mani degli uomini E lo uccideranno Ma una volta ucciso Dopo tre giorni Risorgerà Essi però Non capivano queste parole E avevano timore di interrogarlo Giunsero a Cafarnao Quando fu in casa Chiese loro Di che cosa stavate discutendo Per la strada Ed essi tacevano Per la strada infatti Avevano discusso tra loro Chi fosse più grande Sedutosi Chiamò i dodici e disse loro Se uno vuole essere il primo Sia l'ultimo di tutti E il servitore di tutti E preso un bambino Lo posi in mezzo a loro E abbracciandolo disse loro Chi accoglie uno solo di questi bambini Nel mio nome Accoglie me E chi accoglie me Non accoglie me Ma colui che mi ha mandato E chi accoglie me E chi accoglie me